Musica Musica Le attività di intercettazione che se fosse il caso di ribadirlo sono indispensabili e rinunciabili nel controllo alla criminalità organizzata di tipo mafioso senza le intercettazioni non si possono fare indagini, le indagini non portano a nessun risultato questa è secondo me la cosa più importante che deve essere chiara Non vi saranno riforme che toccheranno le intercettazioni sulla mafia e sul terrorismo non si ribadirà mai abbastanza che vi è una profonda differenza tra le intercettazioni che come insegna la legge mirano all'assicurazione, alla ricerca di una prova rispetto alle intercettazioni che si vuole siano esse stesse una prova Il ministro Nordio ha ribadito l'impegno del governo Meloni per una giustizia più rapida, più efficiente ha confermato che continueranno ad essere usate le intercettazioni per reati gravi come naturalmente criminalità organizzata e terrorismo i successi che già stanno arrivando incoraggiano a proseguire su una strada per il bene della nazione Che dire della motivazione adotta dal ministro? Lei l'ha detto, non io secondo cui anche le intercettazioni per reati di mafia sono pletoriche e determinano un inutile spreco di pubblico denaro con una motivazione talmente irrisibile che lo stesso ministro si è visto costretto una precipitosa e pasticciata correzione di tiro che egli intendeva in realtà riferirsi all'abuso delle intercettazioni che si fa per i reati minori con la diffusione sulla stampa di segreti individuali che non hanno a che fare con le indagini poiché i casi di diffusione sulla stampa di segreti individuali ai quali si riferisce il ministro hanno riguardato nella quasi generalità pubblicazioni di votisse concernenti colletti bianchi di alto rango nell'ambito dei procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione se ne deduce anche per il ministro e per la maggioranza governativa tali reati sono da considerarsi reati minori e prendiamo atto e l'avevamo capito già da tempo Buongiorno, buongiorno cari telespettatori allora l'arresto di Matteo Messina Denaro e gli sviluppi delle indagini sono ancora in primissimo piano come sapete ieri è stato trovato un secondo rifugio, un secondo covo del super boss sempre a Campobello di Mazzara dove era stato trovato già il primo appartamento in cui il boss aveva passato gli ultimi mesi all'interno di questo rifugio, un bunker con bracciali, collane, gioielli, pietre preziose alcune scatole vuote sembra, forse quei documenti che si cercano naturalmente che gli investigatori cercano e insomma quindi è al vaglio degli investigatori tutta questa mole di materiale come pure i telefonini e l'agenda che erano stati sequestrati appunto nella prima abitazione il super boss come sapete è rinchiuso nel carcere dell'Aquila si racconta che sia sorridente che abbia, si è filtrata l'intenzione che ovviamente non ha nessuna intenzione di pentirsi dovrebbe essere sottoposto peraltro nelle prossime ore alle terapie oncologiche di cui ha bisogno poi c'è tutta la partita che riguarda le intercettazioni avete sentito, abbiamo sentito l'altro giorno il procuratore capo di Palermo De Lucia sottolinearlo con la nettezza che avete sentito nella copertina e quindi c'è una grande polemica il ministro Nordio, forse lo possiamo vedere in diretta stamattina è alla Camera, una sorta di replica dopo l'illustrazione delle riforme del pacchetto complessivo di riforme sulla giustizia presentato ieri un Senato ma il dibattito poi si è incentrato tutto appunto sulle intercettazioni sono state votate varie mozioni quella della maggioranza ma anche quella del terzo polo che insomma si è detto praticamente favorevole alla riforma della giustizia e sono state bocciate poi le mozioni di PD e 5 Stelle che si trovano in forte disaccordo con le linee di Nordio poi ci sono, questo è tutto il pacchetto diciamo che riguarda la mafia e la giustizia ci sono però delle questioni economiche molto importanti oggi c'è un nuovo vertice per scongiurare lo sciopero di fine mese dei benzinai c'è anche un incontro importante tra la ministra Calderone e i sindacati e gli imprenditori sulla riforma delle pensioni insomma ci possiamo confrontare i nostri ospiti si possono confrontare su molti argomenti ve li presento subito del bentornato Roberto Napoletano direttore del quotidiano per il Sud bentornato saluto accanto a lui l'onorevole Luca Squeri che è il responsabile dell'energia di Forza Italia a proposito di caro Carburanti saluto l'onorevole Agostino Santillo del Movimento 5 Stelle bentornato ancora in studio c'è Pino Corrias bentornato Pino grazie giornalista e scrittore collegato con noi c'è l'avvocato Michele Sarno che è un noto penalista salernitano buongiorno credo che si sia candidato nelle scorse amministrative a Salerno per il centrodestra candidato a sindaco ed è anche illegale di Gianfranco Fini buongiorno buongiorno a lei buongiorno a lei grazie dell'invito grazie a lei allora Pino al di là adesso delle indagini che sono molto importanti poi si cercano i complici i fiancheggiatori i segreti i misteri di cui è depositario Matteo Messina Denaro insomma è riesplosa questa polemica sulle intercettazioni come la pensi? beh io la penso come la pensano i magistrati e tutti gli investigatori che in questi 30 anni, 40 anni, 50 anni hanno cercato di accendere una luce su una criminalità organizzata quella mafiosa siciliana ma non solo quella calabrese, l'andrangheta, la camorra e tutte le grandi organizzazioni e lo hanno fatto attraverso tutti gli strumenti consentiti dalla legge comprese le intercettazioni le intercettazioni hanno reso possibile quasi la totalità dei gol delle vittorie di queste indagini e l'insistenza del ministro Nordio sulla delimitazione delle intercettazioni a reati gravi mafia e terrorismo mafia e terrorismo ha come dà almeno la sensazione di volerle escludere per tutte le altre le altre indagini fino a qualche insomma tutti si ricorderanno quello che è appena successo a Bruxelles lo scandalo che ma sì, certo lo scandalo tipico dei colletti bianchi della politica che è la corruzione che ha indignato tutti i troll pieni di centinaia di migliaia di euro quella è una investigazione che è stata fatta quasi solo con le intercettazioni e comunque le intercettazioni i pedinamenti quelli che dalla Chiesa chiamava le osservazioni di controllo la superiorità informativa sia sulle organizzazioni criminali ma su anche tutto quel labirinto di collusioni che rendono possibile il controllo del territorio delle grandi organizzazioni criminali ma anche rendono possibile gli accordi corruttivi e su quelli è indispensabile l'intercettazione telefonica siccome lo consentono le tecnologie non si capisce si capisce che ci sia un problema politico questo sì di tutela di alcune di alcuni reati rispetto ad altri e questo è profondamente sbagliato vado dall'onorevole Lucas Queri importante rappresentante della maggioranza perché poi ci sono un po' due piani forse un piano è questo su cui ovviamente Pino Corriere ha la sua opinione altri hanno altri opinioni un piano è le intercettazioni che finiscono sui giornali e in televisione ma questo è un altro aspetto certo o no? assolutamente cioè bisognerebbe distinguere bene ma rimaniamo anche sul primo piano poi arriviamo anche al secondo il primo piano il ministro Nordio è stato molto chiaro non si parla di vietare le intercettazioni addirittura quando si parla di mafia o terrorismo assolutamente qui si parla di limitarne gli abusi abusi nel primo piano come diceva lei io ho un carissimo amico lo prendo come esempio certo non generalizzandolo ma un esempio molto significativo un carissimo amico un noto esponente della politica della regione Lombardia già assessore alla sanità vicepresidente della regione condannato può fare pure il nome il nome lo faccio certo Mario Mantovani condannato in primo grado se non sbaglio sei anni sette anni grazie a una intercettazione senza prove l'hanno indagato per tre o quattro anni ma hanno trovato un euro di malaffari però c'era un'intercettazione che lo accusava di collusione di sì di concussione scusate è stato assolto in appello perché il fatto non sussiste da tutte le accuse perché quella intercettazione l'unica prova portata a carico era stata trascritta male però questo è ancora un altro aspetto e di almini e allora questo cosa significa intanto che le intercettazioni sono assolutamente importanti ma non possono essere l'unico elemento probatorio per un'accusa in un'indagine vi ho citato un esempio che ecco che poi si condannano gli innocenti in questo modo ma non lo sono quasi mai l'unico elemento quasi mai però poi che ci incappa andiamo a dirlo a quello che ci incappa va bene adesso arriviamo da tutti adesso arriviamo agli innocenti che quasi mai si incappa in queste cose secondo piano è evidente insomma che ci sia un abuso di diffusione di notizie che dovrebbero e la legge lo prevede tra l'altro dovrebbero rimanere riservate per non andare a ledere persone innocenti o colpevoli che siano ma su ambiti che nulla hanno a che fare con l'inchiesta giudiziaria questa è una vergogna che va affrontata la cui attenzione del governo è assolutamente meritoria allora adesso riprendiamo subito il discorso dopo la pubblicità siamo già in grande ritardo adesso riprendiamo e voglio anche sentire il parere di un avvocato di un penalista quindi riparto dall'avvocato Sanna tra poco Allora prima di andare dall'avvocato Michele Sarno vi do un paio di aggiornamenti che sono importanti riguardo alla questione Messina Denaro di cui ci stiamo occupando intanto è stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede sapete che era l'alias Messina Denaro aveva questo documento questa carta d'identità a nome Andrea Bonafede la casa si trova a Campobello di Mazzara e questa è una prima notizia la seconda notizia riguarda invece l'udienza nell'aula bunker di Caltanissette c'è un'udienza del processo d'appello dove è imputato appunto Messina Denaro già condannato all'ergastolo in primo grado per le stragi di Falcone e Borsellino ebbene il procuratore generale aveva predisposto tutto perché magari in videoconferenza possa intervenire direttamente Messina Denaro il suo legale d'ufficio stamattina ha fatto sapere noi non sappiamo nulla anche perché come sapete nel frattempo Messina Denaro per la sua difesa ha incaricato la nipote Lorenza Guttadauro quindi l'avvocato d'ufficio ha fatto sapere ci potrebbero essere delle sorprese sarebbe la prima volta appunto in cui interverrebbe Messina Denaro che fino sapete ad oggi per 30 anni è stato latitante allora avvocato Sarno sentiamo la sua opinione su tutta la questione intercettazioni io ritengo che l'approccio più sbagliato in queste dinamiche rispetto a questo tema sia quello di ideologizzare la questione e riportarla all'interno di un recinto di fazione politica ritengo che quindi tutta quanta questa polemica non è condivisibile nella misura in cui credo che il ministro Nordio abbia chiarito il tema essenziale è evidente che le intercettazioni sono un mezzo di contrasto inalienabile e straordinariamente presente nel nostro ordinamento come giusto che sia nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata ma allo stesso tempo non dobbiamo far finta di non vedere determinate strutture che si sono realizzate nel nostro ordinamento noi abbiamo delle vite che sono state straordinariamente condizionate sulla base di intercettazioni rispetto alle quali i soggetti intercettati non avevano alcuna attinenza con il processo penale tutto questo si determina perché in una spettacolarizzazione del processo il fatto che ci sia un'intercettazione in cui un galantuo una persona come quelle che sono diciamo lì da lei ospiti o come me può parlare con un soggetto che è intercettato che è in odore di camorra o di mafia il solo fatto che questa cosa venga pubblicizzata getta un clima di sospetto su chi viene intercettato e poi non è vero quello che ho sentito non è vero che l'intercettazione da sola non basta per addivenire una sentenza di condanna molto spesso questo accade nei processi e vi renderete conto che nel momento in cui accade ed è frutto di interpretazioni alle volte anche interpretazioni deviate diciamo in buona fede per un cattivo ascolto ma che sicuramente esistono vi renderete conto di quanti danni si possono produrre all'interno di un sistema giudiziario io capisco il tentennamento del rappresentante dei 5 Stelle però la verità sa qual è che alla fine in questo paese il giustizialismo di maniera non porterà da nessuna parte il tema delle garanzie deve essere coniugato con la difesa di alcuni essenziali valori qual è la sicurezza io per primo come avvocato penalista non ho difficoltà a dire che le intercettazioni sono uno strumento straordinario ed indispensabile però l'abuso delle intercettazioni che c'è stato in questo paese c'è stato un abuso straordinario nel nostro paese perché molto spesso si sono costruiti dei teoremi attraverso una lettura distorta delle stesse interazioni mi pare che sia aspetta avvocato su questo vogliamo avere il coraggio di intervenire e viva Dio guardate la straordinarietà in questa situazione è che la posizione del ministro Nordio che è un magistrato quindi viene da una preparazione culturale differente da chi sta parlando coincide perfettamente non per ragioni politiche ma per ragioni diciamo di assonanza culturale con l'avvocatura aspetta aspetta avvocato sanno un attimo la stop un attimo perché così sentiamo facciamo una cosa polifonica mettiamola così vado prima di andare Roberto Vapoletano vado da l'onorevole Santillo io continuo nel senso c'è una contrapposizione netta anche plastica dimostrata dalle vostre posizioni però continuo a a pormi la domanda che mi ponevo prima una cosa è pensare di scoscrivere dei reati ridurli rispetto allo strumento delle intercettazioni una cosa sono le intercettazioni che finiscono diciamo in pasto all'opinione pubblica io vorrei capire questo vorrei riuscire a capire poi è ovvio che finiscono all'opinione pubblica tramite giornalisti che fanno il loro mestiere e sappiamo l'abbiamo scoperto in tanti anni da chi arrivano ma questo è un altro discorso allora si sanzionino e si puniscano le persone che come dire è un reato che si può già perseguire con la normativa esistente altra cosa però l'abuso dell'intercettazione però è un qualcosa che non ha nulla l'intercettazione a strascico abbiamo sentito parlare tante volte le intercettazioni a strascico precisando che l'abuso dell'intercettazione non ha nulla a che vedere con l'intercettazione sono due cose è una patologia che non ha nulla a che vedere con l'intercettazione però bisogna capire anche una cosa e l'ho detto anche Lino Di Matteo il sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia l'ha detto ieri se non mi sbaglio ha detto una cosa chiara cioè bloccare far terminare le intercettazioni per reati contro la pubblica amministrazione significa depotenziare le mani della polizia giudiziaria e della magistratura per le indagini contro le mafie le due tipologie di intercettazioni sono interferenti non si può fare a meno dell'una rispetto all'altra è come cercare di trovare quindi indagare con le intercettazioni chi sta cercando di corrompere qualcuno un pubblico ufficiale o piuttosto turbare una gara d'appalto e quindi poi da lì scoprire che c'è una vena che vi porta a indagare sulle mafie soprattutto stiamo vedendo in questi giorni che un mese il ministro Nordio dice una cosa l'altro mese ne dice un'altra prima dice che non bisogna intercettare mafia e terrorismo adesso invece è passato su questa posizione magari il mese prossimo passerà ancora su un'altra posizione allora qui l'onorevole Squeri che è in questa maggioranza ci deve dire lui in che posizione è quale di queste e poi soprattutto bisogna capire questa maggioranza sta letteralmente spaccando devastando lo spazzacorrotti uno strumento normativo importante che ci ha lodato l'Europa grazie a quello strumento normativo in questo paese sono arrivati i soldi del piano nazionale di ripresa e resilienza e oggi che la mafia è completamente intrecciata nel tessuto economico del nostro paese veste panni diversi da quello del contadino veste panni dell'imprenditore del laureato anche persone che sono dirigenti nella sanità nella pubblica amministrazione vuole mettere le mani su quei soldi la mafia se non andiamo a indagare il reato di corruzione mi sa spiegare lei come facciamo poi ad arrivare ai mafiosi adesso riprendiamo poi perché per le repliche voglio sentire è stato silente fino adesso Roberto Napoletano su questo anche perché adesso c'è diciamo l'iceberg legato alla mafia legato a mantenere denaro però la questione giustizia è una questione che è intrecciata intimamente alla questione economica di un paese in assoluto in termini di attrazione di investimenti avere una giustizia che funziona efficiente ma c'è ancora una precondizione direi secondo me che è stata un pochino mi pare sottovautata in tutti c'è lo stato di tutti che funziona cioè per esempio io ho visto i commenti sull'arresto c'è stato proprio un eccesso di indulgere era sotto casa voglio dire in questi ultimi anni mi pare che sono state arrestate più di 250 persone per favoreggiamento cioè solo dell'indagine di questa indagine cioè voglio dire lo stato cioè la macchina dello stato cioè gli investigatori forze dell'ordine hanno fatto un lavoro serio importante il risultato è enorme per una determinata mafia che è cosa nostra che vale molto meno di Entrangheta che appartiene a una storia vecchia e che la storia nuova è quella a cui si faceva cenno che riguarda addirittura la nuova mafia imprenditrice di altri territori di questo paese endogenà cioè non è più non stiamo più parlando della diciamo di Cosa Nostra che va in società con colletti bianchi in altri territori ma diciamo che il sonno è stato così lungo la voglia di guardare da un'altra parte mentre si consumavano il processo Emilia sentenza in Cassazione l'ostinata volontà di guardare dove c'è un territorio dove si esercita attraverso la chiamano massoneria ma insomma è un intreccio di connivenze e questo è il dato più delicato di questo fenomeno sul territorio la borghesia mafiosa ha impedito di vedere l'evoluzione a cui si faceva cenno molto importante in pezzi vitali cioè tu parli di Messina lo consideri quello che è più economico di tutti di tutti questi diciamo grandi capi ma in quel territorio parla di eolico parla di turismo però voglio dire noi se andiamo oltre possiamo parlare di smaltimento di rifiuti possiamo parlare di grandi business di grandi iniziative dove diciamo e noi parliamo dell'Italia non apriamo il tema Germania dove sull'antiriciclaggio e su tutto ciò che serve per colpire questo tipo si è molto più indietro e la penetrazione è molto più importante allora io credo che sia importante la fiducia delle regole c'è deve essere una sacralità dello Stato che non deve essere messa in discussione ogni volta perché molte di queste l'intercettazione è uno strumento veramente indispensabile non si discute ma qual è il tema che anima questo dibattito è che non c'è fiducia cioè non c'è fiducia di come viene usato noi dovremmo cominciare ad assumere le regole di un paese serio un paese che non è riuscito a riconoscere il miracolo nascosto lo scritto nel libro un paese che non è riuscito a riconoscere che era la migliore economia europea la migliore crescita ma voglio dire ma non lo riconosce ai temi economici no io come dire mi piace questa tua riflessione sentivo l'altro giorno è stata intervistata in questi giorni moltissime volte da moltissime reti Maria Falcone no e Maria Falcone ieri non mi ricordo in quale trasmissione diceva sì è molto importante ovviamente questo arresto il suo grazie ai magistrati delle forze dell'ordine dice però questo paese deve riguadagnare non solo quello che dicevi un po' tu la fiducia di istituzione ma ognuno di noi per la sua piccola parte deve rispettare le regole le regole scolastiche le regole del traffico le regole della convivenza civile diceva questo ma insomma questo è un altro discorso allora voglio fare ancora una domanda all'avvocato Sarno prima di salutarlo perché uno dei temi questo è un tema quello introdotto da Roberto Napoletano quello della fiducia molto importante però io le faccio una domanda diciamo più generale e che impatta con i discorsi che stavamo facendo cioè in Italia ancora quanto è sbilanciato il rapporto tra accusa e difesa perché questo è un altro dei grandi temi questo è un altro dei grandi temi che secondo me fa male proprio all'amministrazione della giustizia per quanto la costituzione sia intervenuta in una forma di parificazione tra le parti processuali questa parità non viene letta e dice una cosa giustissima Napolitano dice fa una riflessione attenda che si può estendere a questa sua domanda alle volte oltre al senso dello Stato nell'ambito del processo io parlo di estetica del processo il processo oltre che giusto deve apparire agli occhi dei cittadini giusti e fino a quando avremo una magistratura requirente una magistratura giudicante che ha fatto lo stesso percorso persone che hanno fatto lo stesso esame che si conoscono che hanno una naturale confidenzialità questo tipo di commistione determina le condizioni di sfiducia nel cittadino non perché non ci sia correttezza dell'amministrazione però si renderà conto che quando arriva un magistrato del pubblico ministero e dà del tu al giudice che deve giudicare un imputato e l'avvocato invece è in una posizione sempre più marginale in un processo e chiudo in cui la difesa sta praticamente scomparendo considerate che in molti casi noi oggi dobbiamo chiedere nell'oralità del processo perché il nostro processo orale dobbiamo chiedere per iscritto di essere presenti vedete che mettere in un cono d'ombra l'avvocatura significa mettere da parte il diritto di difesa e credo che questo vada colmato chiarissimo voglio chiedere ancora una cosa però Pino Corri perché questo discorso è la separazione delle carriere si se ne parla ma tutto quello che va diciamo nella direzione del garantismo e dell'equilibrio del processo va sempre bene ma da qui a depotenziare o rischiare di depotenziare la capacità di investigazione visto che comunque allora noi siamo il paese siamo un'eccellenza tra virgolette nel pianeta cioè abbiamo tre mafie presenti nella nostra storia abbiamo dei livelli di corruzione che ci mettono sempre ai primi posti nelle classifiche allora dobbiamo fare i conti con questa realtà dei fatti e dobbiamo fare i conti nei mesi scorsi quando si parlava di PNRR dei 209 miliardi in arrivo c'è stato ci sono state tante procure e tanti investigatori che hanno acceso un allarme su come verranno spesi e quanto sarà efficace o non efficace l'assalto a queste risorse che sono risorse straordinarie e questo intreccio che riguarda anche proprio la nuova mafia di Matteo Messina Denaro questo intreccio tra gli investimenti pubblici e la penetrazione mafiosa è un problema che ci dobbiamo porre seriamente e quindi depotenziare la capacità di indagine e di contrasto è una deriva pericolosissima allora faccio un ultimo vorrei chiudere questo capitolo per aprire un altro all'onorevole Luca Squeri ci sono però delle diciamo sensibilità diverse nella maggioranza adesso questo arresto ha riportato il tema in primo piano delle intercettazioni cioè anche rispetto alla linea nord io sento degli scricchioli o no è così cioè tra voi Lega e Fratelli d'Italia ci sono delle differenze a me sembra che l'obiettivo sia unitario che non è assolutamente quello di depotenziamento di uno strumento che è efficace nessuno lo mette in dubbio ma di mettere diciamo regole e ordine a una magistratura che insomma se hai minimi nel consenso dell'opinione pubblica ci sarà un motivo allora andiamo a prendere quello della separazione delle carriere è assolutamente sono contento di sentire che è un elemento che sempre più è condiviso trasversalmente e non solo anche il discorso delle intercettazioni che nessuno vuole potenziare ma dove si vuole mettere delle priorità cioè un conto è dire che sul terrorismo sulla mafia non ci sarà nessun limite un conto è dire negli altri ambiti anche per una questione di sostenibilità oltre che poi il secondo piano che diceva lei cioè di impedire un utilizzo assolutamente vergognoso di quelle che sono ma la corruzione che porta la mafia qualcuno deve far rispettare queste leggi intercettate sì o no la domanda è questa l'intercettazione di un reato di corruzione per una pubblica amministrazione che porta ad un'indagine di mafia lì l'intercettazione la volete fare sì o no ma certo credo di sì perché poi anche quel campo prevede a reati sui cittadini aggrappati a una parola sono d'accordo dappertutto come maggioranza però hanno tagliato i soldi alla giustizia in manovra posso un po' d'autorità chiudere questo capitolo deve andare più già è tardi abbiamo il titolo del quotidiano del sud di Roberto Napoletano voglio farvi vedere il titolo di oggi c'è il nostro nemico eccolo qua non è l'Europa perché lo faccio vedere perché ripartiamo tra pochissimo dopo la pubblicità con anche un contenzioso di qualche tipo che si è aperto tra l'Europa e gli Stati Uniti e ci sono poi tutti gli addentellati che riguardano da vicino il nostro paese lo vediamo dopo la pubblicità c'è l'America scintillante delle città dei grattacieli e degli spazi sconfinati l'immaginario di un film collettivo una terra sospesa nei sogni che moltissimi vorrebbero realizzare almeno una volta nella vita poi c'è l'altra America fondata sul dollaro superpotenza non solo economica che macina materie prime produce esporta e impone il passo ai mercati finanziari questa America comincia a fare paura all'Europa che nel nuovo ordine mondiale rischia di ritrovarsi nemica forse di pochi ma amica fondamentalmente di nessuno giorni fa mentre da noi si ragionava sull'andirivieni delle imposte sulle benzine Macron chiamava all'Eliseo le grandi imprese francesi per discutere di come reagire al nuovo protezionismo d'oltreoceano per combattere l'inflazione di là e la metà intorno al 6% e all'interno di un piano da circa 400 miliardi di dollari in 10 anni l'America si è inventata ricchi incentivi fino a 7500 dollari alle famiglie che acquistano auto e tecnologie rinnovabili ma solo se prodotte negli Stati Uniti lo chiamano buy American compra americano potrebbe tradursi in un aggressivo non comprare europeo quindi meno lavoro fuga di cervelli e capitali una potenziale minaccia più raffinata della classica svalutazione del dollaro ecco perché Bruxelles prima mossa rassicura von der Leyen dalla lobby pensatoio di Davos sta trattando perché anche le auto elettriche europee possano essere acquistate con gli stessi bonus dagli americani questo perché se no soprattutto le case tedesche chi le sente più seconda mossa un piano di aiuti per la transizione delle aziende europee da finanziare con un fondo sovrano ma la Germania teme il debito comune e l'argomento spazia fino alla firma di Roma negoziata sul MES ratifica del famigerato fondo salva stati e sostanziale tregua con i falchi in cambio però di modifiche al piano di ripresa il secondo serve subito il primo speriamo mai uno dirà i francesi da protezionisti incalliti pensano ai loro trionfi Berlino la sua politica industriale la fa da sé l'Italia invece medita e se per ipotesi e per emulazione domattina il governo dovesse convocare a Palazzo Chigi le grandi imprese a consulto ma chi potrebbe mai chiamare tra le prime 500 del mondo la Germania ne piazza una trentina la Francia poco meno noi dieci di cui due sono le solite note il loro nome inizia per E come energia ma ancora da rinnovare gira e rigira è di questo che si parla ecco il bel quadro fatto da Marco Fratini intanto vi do conto di quanto ha detto questa mattina il capo di Confindustria Bonomi dichiarazioni tutti diciamo che vedono meno cupo lo scenario italiano anzi quasi rosio intanto dice Bonomi noi stimiamo che per la fine di quest'anno l'inflazione possa girarsi intorno al 5-6% e poi Bonomi stima una ripresa robusta nel secondo semestre di quest'anno allora vado rispetto a questi temi da Roberto Napoletano e perché tutto questo si collega anche al titolo che tu hai fatto e i titoli che stai facendo in questi giorni da molto tempo sul tuo giornale di cosa non ci stiamo accorgendo? Noi non ci siamo accorti che è morta l'Europa del 2009 che era quella del fondo monetario quando tu Grecia hai fatto una cosa gravissima hai falsificato il bilancio e quindi tu non devi e poi ti ho mandato la troica non solo devi severamente pagare la tua colpa tu devi proprio espiare per cui io ti ho tagliato del 22% il salario dei dipendenti che non c'entrano niente con chi ha falsificato il bilancio il debito tutto si ferma il debito diventa carta straccia si contagia la Spagna si contagia l'Italia i paesi del sud Europa hanno la seconda recessione quel mondo lì è finito è finito con la nuova BCE americana di Draghi il miracolo economico italiano è stato possibile perché l'Europa era con noi cioè gli italiani erano i più privilegiati siamo stati in queste due grandi crisi la crisi pandemica e la guerra mondiale delle materie prime poi determinata dai carri armati russi in Ucraina siamo stati e siamo il paese più privilegiato perché gli euro bond da una parte adesso arriverà anche il fondo sovrano comune allora io dico questo perciò il nostro nemico non è l'Europa siamo riusciti a coprire ripeto l'ho raccontato i riscatti e i ricatti però ogni giorno ogni giorno tutto quello che era stato detto viene confermato da qualunque dato il dato delle esportazioni di ieri continuiamo a crescere ora mi accorgo che effettivamente anche dal mondo delle imprese che hanno per un anno e mezzo il centro studi raccontato recessione tecnica recessione profonda mentre la prima crescita europea sette trimestri consecutivi unica grande economia europea di crescita mezzo milione di occupati in più a tempo indeterminato riduzione che non vuol dire assolutamente abbiamo dei problemi di povertà pazzeschi questo paese però si è riduzione del rischio di povertà riduzione della disuguaglianza bene tutto questo adesso arriviamo al dunque io dico questo quando vuoi raccontare il super boom dietro il super boom ci sono dietro il super boom ci sono dati veri quando vuoi parlare come dire di catastrofe dove siamo bravissimi stai parlando di previsioni che non si avverano mai quindi questa recessione non arriva per ora una recessione light di cui si è parlato allora a un certo punto sarebbe giusto che gli italiani capissero anche nel rapporto con l'Europa che l'Europa ne parlano sempre molti troppi come se fosse altro noi facciamo parte di quegli istituti noi come se fosse una controparte non so se questo indebolisce anche anche nei rispetti agli errori effettivi di comunicazione della BCE e soprattutto della Lagarde che ripeto come noi non abbiamo nemmeno percepito lo racconto sempre di scatti e ricatti quello che è cambiato tra Italia e Germania noi siamo dobbiamo crescere non abbiamo grandi imprese però ci siamo resi conto che la Germania industriale la manifattura era legata a filo doppio con la Russia e con la Cina è una difficoltà enorme e le imprese italiane avendo innovato molto innovato nel processo innovato nel prodotto hanno coperto spazi erobi però posso chiederti una cosa a proposito hai citato Lagarde e mi si è accesa una spia e guardo squeri che dalla maggioranza d'autorevole gli esponenti della maggioranza sono arrivate e non solo da loro per la verità insomma delle critiche molto dure nei confronti dell'operato della Lagarde che anche rispetto al contesto che tu ci stai raccontando insomma adesso credo nei primi di febbraio i tassi cresceranno nuovamente parlerò anche fra poco io se vuoi ti dico questo che questi adesso rialzo sono stati fatti degli errori è vero Lagarde di comunicazione però attenzione anche questo bisogna capire per esempio ricordiamoci quando c'era la Bundesbank e quando c'era il Marco e c'era la Lira andiamo a vedere cosa successe nel 1979 nel 1980 vedremo che la Bundesbank impose a tutti i tassi molto più alti noi oggi abbiamo raggiunto un picco dell'11 siamo in una media dell'8 ho visto che il Presidente Confiducia dice che scenderemo al 5 i tassi sono aumentati aumentati sono al 2,5 quindi Polomi dice fino al 3 reggiamo lo dice Polomi ecco perfetto ma questo per dire che c'è ecco che l'Europa è servita non so come devo dire di avere cambiato a parte che ci ha comprato titoli i sovrani ci ha permesso di superare quello che ci ha permesso di superare da marzo tutto questo grande acquisto adesso rallenta fortissimamente se tu fai un attacco aggressivo determini paure tra gli olandesi tra i tedeschi se tu Italia non perché non è giusto condannare gli errori non perché non è giusto però cittone e tolo soprattutto perché tu sei parte ecco il nostro nemico dell'Europa tu sei parte in quella e tu puoi andare lì dicendo che hai il migliore attivo alla destra italiana hai il migliore attivo commerciale al netto della distorsione energetica è molto interessante questa discussione peraltro c'è il messa alle porte no? ormai è andata anche loro dei 5 stelle sono stati tra i più fieri oppositori del messa però siamo chiari eh? però siamo chiari così come Lega e Fratelli d'Italia voi avete una posizione diciamo intermedia però è deciso che si ratifica certo che si e si è anche deciso di non utilizzarlo una domanda che pongo è perché tutti gli stati lo ratificano e poi nessuno lo usa si vede che c'è qualche meccanismo che non funziona ma perché abbiamo fatto tutto questo cincischiare proprio per questo motivo una cosa è chiederlo una cosa è ratificarlo perché per questioni politiche per posizioni passate che vanno maturate perché c'erano delle condizionalità che tutti temevano per questo che non è stato accettato dall'altro giorno ancora bagnai della Lega ha detto neanche se mi puntano una pistola la tempia bisogna dire per il meccanismo automatico che scatterebbe ma non è che le condizionalità del PNRR siano così all'acqua di rose è un terzo del fondo che è dato a fondo perduto quindi poi gli altri due terzi che vengono ridati sono sempre soldi soldi perduti è diverso spetta ad un mese che il meccanismo automatico fa sì che la Troica possa entrare nel paese questo con PNRR non accade io vorrei chiedere al dottor Napoletano se sui 500.000 posti di lavoro a tempo indeterminato che sono stati fatti in più se sa quanti sono quanti si sono avuti grazie per esempio al super bonus che ne ha generati una marea penso la stragrande maggioranza è che questa maggioranza invece quello strumento decisivo lo ha letteralmente affossato di fatto e ha rallentato enormemente tanto è vero che la previsione di PIL con Draghi è iniziata e voi state andando avanti quindi l'agenda Draghi del governo Meloni era continuare ad affossare lo strumento che ha dato più posti di lavoro in questo paese però attenzione no su questo bisogna prendere posso chiederti una gentilezza lo riprendiamo dopo perché poi voglio inserire anche il capitolo pensioni perché è appena cominciato l'incontro tra la ministra Calderone e i sindacati che lo veda anche l'imprenditorio oggi a proposito di quella che è stata annunciata dal governo di centrodestra ovviamente nel tempo come la riforma strutturale del sistema previdenziale italiano Paolo andiamo al meteo non so se è più semplice o più difficile allora sta entrando l'aria fredda sta entrando il freddo per il momento tenendo conto del calendario che ci pone nel periodo più freddo dell'anno statisticamente non c'è niente di particolarmente eccezionale però soprattutto al nord le nevicate cominciano a farsi presenti a quote subcollinari cioè anche sotto i 500 metri e mirano un po' diciamo arrivare a quota zero sulle zone del centro-sud nuvolosità irregolare ma qui è la segnata da temporali quindi l'aria è molto instabile infatti i temporali sono vicino la Sardegna davanti la Sicilia sull'Umbria fra l'Umbria e Toscana quindi insomma ci sono anche delle schiarite ma il tempo l'aria è molto instabile quindi la previsione per la giornata di oggi questa zona del nord le zone diciamo di pianura è quella dove sono attese le maggiori quantità di precipitazioni che appunto partono dai 500 metri o poco meno sulla parte di nord-est a scendere decisamente più in basso sulla Lombardia sull'Emilia poi c'è l'Appennino centro e sud con precipitazioni non sempre intense ma di una certa di una certa consistenza la giornata di domani comincia a cambiare le zone perché vedete che al nord abbiamo un'attenuazione dei fenomeni ancora nevose sicuramente ma in via di ulteriore attenuazione il versante adriatico con i venti freddi che arrivano da est è il primo a essere colpito e lì ci sono i fenomeni oggi ancora fra oggi e domani 500 metri 300 metri poi a scendere o ancora un poco di più le nevicate e poi c'è questa fascia di precipitazioni intensissime dalla Sardegna fino al medio-basso Tirreno molte per fortuna sono sul mare ma sono quantità veramente elevate e questo riguarda un po' tutto il sud finalmente nella giornata di sabato migliora decisamente al nord con temperature cielo sereno temperature minime più basse quindi andiamo veramente su valori inferiori alla media i fenomeni più intensi sull'adriatico vedete che il centro della bassa pressione si sposta proprio sull'adriatico quindi le coste adriatiche con precipitazioni abbondanti e questa volta appunto nevicate ancora molto in basso lo stesso vale per il sud comincia a migliorare un poco in Sardegna e sul versante tirrenico il tutto appunto come dicevo accompagnato da temperature basse non sono polari ma insomma basse lo sono la foto di oggi è cronaca perché ce la manda da Courmayeur Albert e insomma lì la neve come vedete è arrivata è una foto di ieri dopo una grande attesa grazie subito di pubblicità ripartiamo dal capitolo pensioni poi vediamo anche qualche novità che riguarda quello che ha detto Nordio stamattina alla camera tra poco esatto allora subito un paio di notizie rispetto a quanto ha detto Nordio poco fa alla camera Nordio ha ripetuto che se non si interverrà sugli abusi delle intercettazioni cadremo in una democrazia dimezzata ha detto però poi ha detto una cosa che è molto importante anche alla luce del dibattito che facevamo dice Nordio non ho mai inteso toccare minimamente le intercettazioni che riguardano terrorismo e mafia e aggiunto e quei reati che sono satelliti nei confronti di questi fenomeni perniciosi un altro ravvedimento sta facendo un miglioramento giorno dopo giorno un ministro migliora come vedete si sta un po' allargando il ravvedimento sta per corruzione sono capriole sempre mi pare anche reati sentinelli reati sentinelli allora scusate però fatemi aprire che capito pensioni in Francia c'è il rischio paralisi oggi sindacati in piazza insomma di ogni categoria dai trasporti ai dipendenti pubblici perché il governo vuole rinalzare da 62 a 64 anni l'età pensionabile in un arco di anni mentre come vi dicevo è cominciato l'incontro tra la ministra Calderone e i sindacati ci sono anche il sottosegretario Durigon e il sottosegretario dell'economia Freni ci sono i leader di CGL Cislewil e UGL e poi ci sono le associazioni datoriali questo è quanto vi posso dire noi sul tema della previdenza e della riforma che verrà che abbiamo sentito abbiamo sentito l'ex ministra Elsa Fornero la riforma che non dimentichiamolo mai è nata in un momento di emergenza finanziaria vera e era destinata a rendere il sistema pensionistico stabile quello che hanno fatto i politici in un certo senso è di utilizzare la riforma per fare delle mini contro riforme in modo da rendersi gradevoli agli occhi degli elettori è stato cavalcato politicamente per quello scopo politicamente direi anche in maniera cinica questo ha anche il lupo i cittadini che fosse possibile tornare indietro tornare indietro quando guardi le pensioni erano veramente usate come strumento di consenso politico quello che non è diciamo accettabile è di fare della pensione un diritto al di là di ogni circostanza questo mentre è giusto assistere le persone in difficoltà la pensione dipende dal lavoro e quindi la classe politica il governo si deve impegnare soprattutto perché il lavoro delle persone sia in quantità maggiore cioè che ci sia un tasso di occupazione più alto e sia anche meglio remunerato se noi facciamo questo le pensioni non sono un problema l'Italia non ha bisogno di una riforma le riforme sono già state fatte la loro applicazione che è molto deficitaria le riforme sono state fatte cominciamo dal 93 poi dal 95 il tempo di applicazione di queste riforme era lunghissimo proprio perché perché il sindacato sia opposto perché non c'era consenso politico le riforme ci sono quello che serve sono correttivi correttivi si possono fare ma facciamoci la domanda e come vengono pagate queste nuove miracolistiche promesse pensionistiche non c'è nessuna riforma che di per sé crea risorse che non ci sono le riforme ci sono già gli accorgimenti si possono prendere quello che manca è un po' di onestà intellettuale così così parlò Elsa Fornero che come sapete ha segnato nel governo Monti insomma una riforma molto importante allora voglio ripartire da Santillo a proposito di pensioni parto dall'opposizione perché adesso mi pare c'è un regime transitorio quota 103 no? mi pare però come per quota 100 insomma quello che si dice attenzione sono per quanto soluzioni ponte che costano una barca di soldi e favoriscono poche persone pochissime è così? assolutamente tra l'altro vanno a colpire principalmente il genere femminile quota 103 sarà una quota che sarà raggiungibile all'80% soltanto dagli uomini però quota 100 poi la siglaste con l'EA quota 100 fu siglata anche perché al governo eravamo con un'altra forza che puntava fortemente su quella misura noi avevamo creduto e credevamo e crediamo nel reddito di cittadinanza come abbiamo ottenuto il reddito di cittadinanza poi è stata fatta quota 100 ora noi le quote non piacciono tra l'altro in manovra questa maggioranza ha distrutto opzione donna basti pensare che da 30.000 che potevano averla adesso sono 2.500 ora in generale cosa accade che di questa quota 103 tra l'altro la maggioranza il governo parla di una quota 41 di contributi di pensione per i contributi non si comprende se questa pensione poi farà riferimento alla parte contributiva o alla parte mista contributiva e retributiva perché c'è una bella differenza perché gli ascoltatori devono sapere che se si fa riferimento soltanto alla parte contributiva noi andiamo verso tutto il contributivo però per questa parte che ha la prima i primi anni di lavoro erano misse e quindi retributivi qui abbiamo il nostro riferimento di maggioranza l'onorevole Squeri che ci può chiarire questo concetto cioè noi andiamo verso 41 anni di contribuzione e poi sarà soltanto contributiva o c'è una parte mista che è fondamentale quindi di per sé noi siamo convinti che la riforma vada portata avanti quello che diceva pure prima la Fornero non deve essere usata a spot elettorale ma qui abbiamo i principi dello spot elettorale che è Silvio Berlusconi che ha promesso mille euro al mese una delle soglie più alte a 67 anni riforma Fornero è giusto perché poi uno dei grandi temi su cui si imbatte è questo voi la bastereste quella soglia? assolutamente sì 67 sì i fondi vanno trovati tra l'altro voglio ricordare una cosa in questa manovra i fondi sono stati tolti dalla rivalutazione delle pensioni per far fronte a questo desiderio di portare a 600 euro alcune pensioni immagini lei come siamo combinati vado da Squeri anche perché la promessa di Forza Italia e di Berlusconi da sempre quella di innalzare fino a 1000 euro le pensioni ma costa anche quello costa un sacco di soldi molto intanto il leader delle promesse direi che è in campo 5 stelle quando si disse abbiamo mantenuto la promessa abbiamo abolito la povertà insomma lì siamo nel pesimento un milione di poveri nel momento della pandemia e altri 700 mila li create voi con questa manovra del primato di promesse avventate detto questo tornando a parlare di cose serie l'avete detto oggi c'è l'inizio di un percorso c'è l'incontro in confronto con i sindacati con le associazioni datoriali con Formecio con Forindustria e le altre per una riforma io non condivido quello che ha detto la Fornero cosa in particolare non condivide quello che ha detto la Fornero che le riforme ci sono già cosa vuol dire le riforme ci sono già che c'è già la sua e dunque bisogna toccarla un pochettino la sua è stata fatta in un momento anche lei stessa l'ha detto molto particolare dove non si teneva conto di quello che deve essere un rapporto onesto e chiaro tra chi si presenta alle elezioni fa promesse e l'elettorato quel governo proprio era lontanissimo da questo tipo di logica che invece è il perno della democrazia noi ci siamo presentati alle elezioni abbiamo detto che ci sarà una riforma delle pensioni dentro la quale c'è l'obiettivo di arrivare già nella finanziaria un piccolo passo è stato fatto l'ambizione è molto più alta un piccolo passo infatti parlo di un piccolo passo l'ambizione è molto più alta c'è di arrivare a 1000 euro come minimo pensionistico e tra l'altro nella fondatezza delle promesse mantenute ricordo che l'ultimo che ha mantenuto una promessa importante su questo campo è stato Berlusconi quando governava sentiamo Roberto Napoletano perché questo peraltro come dire costa allo Stato italiano moltissimo c'è poi tutta la questione di previdenza e assistenza la famosa divisione che andrebbe fatta ma insomma posso citare anche un'altra cosa un allarme di cui già da tempo sentiamo parlare è che per la crisi della natalità qui fra un po' avremo più persone in pensione che cittadini attivi che lavorano questo è il primo problema strutturale questo è il problema gigantesco però vorrei fissare alcuni principi ma proprio numerici cioè capitolo pensioni nella legge di bilancio del governo Meloni è copertura della manovra ci sono 2 miliardi e virgola 1 di tagli sulle indennità sulle rivalutazioni e poi c'è questo questo piccolo diciamo siamo completamente dentro la riforma Fornero nel senso che c'è un'aderua come già è stata fatta l'altro giorno quindi da questo punto di vista sinceramente noi come paese nel 93 ha fatto con Dini Dini quindi poi un governo sostanzialmente sostenuto anche dal centro-destra si è avviato prima questo tema decisivo ma per un problema particolare unico noi abbiamo 2.700 miliardi di debiti la prima voce è quella pensionistica la clausola di salvaguardia del nostro debito pubblico e quindi del futuro dei nostri giovani che sono tra l'altro sempre meno è mettere sotto controllo passando al regime contributivo ovviamente come dire ci sono fasi di passaggio che erano state disciplinate nel lungo termine posso però chiederti una cosa quindi questo percorso è un percorso segnato e anche qui stiamo l'Ocse dice che tanto bisogna innalzarla questa data pensionabile per tutti è una tendenza che riguarderà tutti i paesi ma quello che sta facendo la Francia che è più indietro e che invece ha fatto molto prima di noi la Germania che da questo punto di vista diciamo ha usato il sistema contributivo quindi chi lavora si deve mettere l'anima in pace sì per molti lavori usuranti tutto quello che sappiamo cioè non giudiamoci che si potrà andare in pensione prima di adesso basta guardare diciamo l'ordine di grandezza proprio che incide sulla formazione del debito noi ci dobbiamo porre il tema di avere risorse umane per fare continuare a crescere l'economia pagare contributi e tutelare quello che è già stato scritto che al momento non è assolutamente tutelato da qui a un certo numero di anni ecco perché anche il tema dell'immigrazione è molto noi dovremmo organizzarci per andare il decreto flussi per farci dobbiamo andare noi lì chiedere noi il piacere di venire qui e di scegliere persone da qualificare da formare oltre che investire però volevo dirti una però aspetta no sai cos'è non ti voglio se fosse un tweet sì che devo chiedere un'ultima cosa no quello del tweet è questo che bisogna però dire al netto di tutte le osservazioni che ho fatto lo spread è sceso in area di 270 quello che è importante per l'Italia capire questo è l'ho detto i riscatti e riscatti la nuova scommessa di Giorgio Meloni al momento nonostante questo errore grave di comunicazione sulle aver tolto lo sconto dell'accisa sulle inflazioni il giudizio dei mercati il giudizio delle istituzioni è un giudizio di affidabilità e questo nell'interesse del paese è molto importante ed è importante per andare avanti nel processo di formatore Pino Corrias Messina Denaro ha rinunciato a partecipare in videoconferenza alla famosa udienza non avevamo dubbi non avevamo dubbi ma si si era capito che questa era l'area hanno fermato il capitano ultimo questo è il riaggiornamento di un libro che già avevi scritto per chiarire l'entere questo aggiornato agli ultimi tre anni della storia di Sergio De Caprio il colonnello oggi capitano ultimo l'uomo che ha arrestato Totò Riina cioè quello che è accaduto qualche ora fa era accaduto trent'anni fa con Totò Riina sì praticamente trent'anni fa laddove Totò Riina è stato arrestato in una piazza di Palermo perché abitava nel centro di Palermo in una villa esattamente esattamente non è cambiato quasi nulla tranne nelle conseguenze io spero che Nordio in aula a proposito di errori giudiziari ha citato il processo Mori il comandante dei Rossi e le opposizioni c'è stato molto bruciato da parte delle opposizioni mi ha colpito adesso rispetto che era quello che oggi è Angelo Santo insomma era il capo era il colonnello era il capo del Rossi con Sobrani martoriato ingiustamente senza le intercettazioni per reati più piccoli non ci sarebbe stato il caso Arata quindi attenzione ci vorrebbero puntate e puntate sulle intercettazioni sugli errori giudiziali quella di ultimo è una storia straordinaria questo libro è un risarcimento alla sua storia è un risarcimento alla sua storia grazie Vino Corrias vado invece subito nello studio dell'area che tira da Mirta ciao Mirta buongiorno buongiorno allora la verità una puntata imperdibile Ignazio Larussa per la prima volta in uno studio televisivo dalla sua elezione a presidente del senato abbiamo moltissime cose da chiederle perché Ignazio Larussa nonostante il ruolo istituzionale è rimasto Ignazio Larussa poi arriva Stefano Boracci dobbiamo parlare del PD di quello che sta accadendo oggi Repubblica parla di un testa a testa tra lui e Lich Line e poi naturalmente tutto quello che sta accadendo sul caso Messina Denaro le polemiche le intercettazioni ieri Giulia Buongiorno qui da noi ha fatto una gran frenata sul tema intercettazioni proveremo a capire come la maggioranza si sta muovendo con noi Andrea Del Mastro Maurizio Gasparri Dino Giarrusso Fiorenzo Sarsarini che oggi ha fatto un'intervista molto interessante al capo del ROS i carabinieri che hanno arrestato Messina Denaro che naturalmente respinge ogni idea di trattativa e ancora Maurizio Molinari direttore di Repubblica poi appunto arriva in studio Ignazio Larussa come mi dicevo ci raggiungono per parlare anche di Ucraina perché in Ucraina stanno capitando molte cose tremende dall'elicottero caduto fino al condominio sovventrato a Nipro con noi con Fredo Buccina Dalitocci Marco Tarquinio Claudio Locatelli e poi appunto arriva Stefano Bonaccini vi aspetto non perdetevela grazie Mirta utilizzo Roberto Napoletano deve essere una risposta flash in chiusura un telespettatore Renzo ci scrive sulle pensioni non state dicendo le cose giuste perché continuate a dire che costa tanto allo Stato sono balle perché chi va in pensione riceve i soldi che ha versato negli anni di lavoro lo Stato non regala niente purtroppo dice lui una balla perché il sistema retributivo significa esattamente questo che tu hai pagato hai diritto perché c'è una legge che ti dà diritto ad avere quella pensione che addirittura scattava sull'ultimo stipendio ma non hai pagato una contribuzione che ti darebbe diritto è molto semplice in Germania si fanno la pensione con l'assicurazione e con per integrare quello che è il famoso secondo pilastro quello integrativo è un altro degli argomenti che credo che sta parlando di centinaia di miliardi sia nella sanità che nella previdenza tiene ben presente non stiamo parlando di bruscoline no stiamo parlando di cifre grazie allora grazie a Pino Corrias grazie a Agostino Santillo grazie a Luca Squeri grazie a Roberto Napoletano c'è l'aria che tira ci vediamo domani stesso luogo stessa ora grazie a tutti 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 grazie a tutti